E' fatta ormai per l'acquisto di Daichi Kamada da parte del Milan, quindi il centrocampista giapponese, classe 96, arriva a parametro zero dal line track di Francoforte. E' un acquisto importante, anche andando a ripercorrere la sua storia, si capisce comunque che è un giocatore, magari ecco non un fuoriclasse assoluto, ma un ottimo giocatore, almeno quello che ha dimostrato finora è di livello, portato dall'Eintracht in Europa, preso direttamente appunto dal Giappone nel 2017, quindi quando ha 21 anni, arriva già con delle ottime prospettive, fa un primo anno di ambientamento, gioca tre partite in Bundesliga, una in Coppa di Germania, e poi viene mandato giustamente, probabilmente in quel momento lì, in prestito in Belgio, dove fa un buon campionato, segnando 12 gol in 24 partite, segnando anche nei playoff, quindi fa capire che c'è un percorso di crescita ed evidentemente la sua qualità è superiore per il campionato belga, quindi viene riportato indietro dal prestito, dal line track di Francoforte, non arriva con tantissime aspettative, cioè non ci si aspetta che subito il primo anno, la stagione 19-20, sia così protagonista, soprattutto in Europa League, dove segna sei gol in dieci partite, è veramente quasi una trasformazione, quella che fa vedere nelle partite importanti, nelle partite europee. Gioca anche parecchio in Bundesliga, l'anno successivo, anno in cui la line track non gioca le Coppe europee, il dato che viene più alla luce è il numero di assist, ne fa addirittura 13, è uno dei primi, secondo probabilmente solo a Thomas Müller, e in quel momento lì si capisce che è un ulteriore step anche del suo modo di giocare, il vedere il gioco, il fornire l'assist ai compagni. Il 2021-2022 è il grande anno della vittoria dell'Europa League, di nuovo protagonista in Europa, segna 5 gol, segna in finale, segna uno dei rigori della vittoria contro i Rangers, e quindi protagonista, è protagonista comunque anche in Bundesliga, gioca quasi sempre, poi dopo vedremo come, cioè in che ruolo e con quali caratteristiche. Quest'anno è un anno un pochino di alti e bassi, nel senso che segue un po' la squadra, quindi arriva alla pausa per i mondiali a novembre, con line track in grande forma, è molto avanti in classifica, lui fa molto bene. Dopo il mondiale, che per lui non è un mondiale diciamo particolarmente positivo, sì il Giappone fa bene, lui devo dire non è che faccia male. Certo probabilmente le aspettative erano alte, forse ci si aspettava qualcosa di più dal suo mondiale, soprattutto per il suo livello all'interno della squadra del Giappone. E dicevo, poi la seconda parte di stagione anche per line track non è il massimo, si è ripreso un po' alla fine, è andato avanti fino alla finale di Coppa di Germania, in Coppa di Germania lui segna, segna quattro gol, segna e fa un ottimo percorso anche lui, oltre che line track in Champions League, lui segna tre gol, poi vabbè line track viene eliminato come sappiamo dal Napoli agli ottavi. In Bundesliga in realtà questo è l'anno in cui ha segnato di più in Bundesliga, aveva segnato di più soltanto nel campionato belga, infatti è arrivato a nove gol, tre su calcio di rigore, quindi diciamo che tre su tre, quindi quest'anno assolutamente infallibile, per cui può essere una caratteristica anche diciamo da fantacalcio, nel senso che sicuramente tira e bene, finora ha dimostrato questo, i calci di rigore, oltre che le punizioni, i calci piazzati, insomma può essere interessante da questo punto di vista. Quindi per ora nove gol, sette assist, comunque si conferma questa tendenza a riuscire a fare assist, a vedere il gioco, a dare in profondità, eccetera. Dicevo delle caratteristiche importanti per capire quale potrà essere il suo ruolo nel Milan di Pioli. Quest'anno è stato l'anno volendo un po' più vario dal punto di vista della sua posizione in campo. Glasner ha quasi sempre usato, a parte qualche sporadico momento di 4-2-3-1, in cui comunque lui anche in questo caso poi il ruolo poteva essere quello dietro la punta, oppure al centro campo, ma vedremo dopo, ma la maggior parte delle volte è 3-4-3. Ecco, 3-4-3 però i due dietro o di fianco alla punta non sono delle ali, nel senso che stanno molto anche centrali, fanno massa in mezzo e sono poi gli esterni del centro campo ad andare sulle fasce. Ecco, questo è importante perché lui si può dire che non abbia spesso giocato dall'Ansia, ha giocato veramente quasi mai. È veramente più un trequartista classico, che magari può partire da sinistra o da destra, ma comunque il ruolo è quello, e ha fatto quello, ma c'è stato un periodo in cui ha giocato anche moltissimo centrale di centro campo, quindi nei due centrali di centro campo, e l'ha fatto anche con ottime caratteristiche di corsa, ha anche capacità di contrastare, non è fisicamente particolarmente grosso, anzi, abbastanza, diciamo, mingerlino, ma comunque non muscolarmente importante, e però stava decisamente bene, c'è stato un momento in cui a centro campo, normalmente accanto a Sov, rendeva molto, e dava, e dà, comunque tuttora, perché comunque l'Aintracht ancora una partita ce l'ha, una possibilità di variazione, nel senso che nel momento in cui si vuole dare più qualità, nel momento in cui c'è bisogno di attaccare di più la soluzione di Kamada, centrale di centro campo, magari un altro giocatore più offensivo davanti, è effettivamente una soluzione che Klasner ha utilizzato parecchio, ma anche non solo quando c'era da recuperare una partita, ma anche quando magari la partita richiedeva, appunto una maggior qualità, un maggior possesso palla, una tecnica superiore in mezzo al campo. Quindi queste sono un po' le sue caratteristiche che gli permettono di giocare in entrambi i ruoli e quindi di poter essere anche d'uttile, se vogliamo. Quindi magari non rapidissimo, ma sicuramente tanta corsa, tanta qualità, quello è sicuramente uno degli aspetti, la capacità di mettersi a disposizione della squadra e di vedere il gioco, la possibilità appunto di battere i rigori, come dicevo prima, le punizioni, i calci piazzati, quindi sicuramente dare anche un'ulteriore via d'uscita magari nelle partite bloccate. Quindi è un giocatore che può dare anche volendo corsa e poi il quarto giocatore del line track per chilometri coperti, quindi decisamente uno a cui piace correre e corre bene in maniera efficace. Quindi può essere interessante, può essere decisamente un giocatore che anche perché ho preso a parametro zero, nelle rotazioni, ma non escludo che possa anche diventare a tutti gli effetti un titolare, può essere decisamente appunto interessante.